No, è la traduzione che c'è il malo. È il momento gaming. Sì, è il momento gaming. Sì, di videogiochi per ogni gusto, per ogni caldo e per ogni lustro. Di videogiochi, di videogiochi, di videogiochi. Tanti videogame, concorine, chiave e avventura. Di videogiochi, di videogiochi, di videogiochi. Non ho mai comprato un profilo OnlyFans per passare le foto agli amici. Che schifo arriva?